Salve ragazzuoli, allora in questo video vi volevo parlare di una cassettina d'edicola. Di solito non faccio mai video su cassettine d'edicola, anche perché non voglio rubare il mestiere a gente molto più esperta di me in questo campo come ad esempio il Prodi ATP, ma in questo caso volevo fare un'eccezione per parlarvi di una cassettina di cui ho un ricordo ben preciso e la cassettina è la seguente. Prima visione C64 numero 2 del gennaio 1986, il ricordo preciso che ho di questa cassettina è il seguente, io e mio fratello ci trovavamo a casa dei miei nonni per qualche motivo, adesso non lo ricordo, e quindi non eravamo a casa con il Commodore 64 e mio padre ci viene a prendere per riportarci a casa e aveva comprato questa rivista, questa cassettina, vedete, lire 8000, video poste nel regalo e 4 giochi comprese, come al solito io e mio fratello ci mettiamo a sfogliare la rivista nell'attesa di tornare a casa e poterla provare a caricare con il registratore del Commodore 64, ci mettiamo a sfogliare la rivista per cercare di farci un'idea dei giochi che si trovano in questa cassettina. Cominciamo a sfogliare, il primo si chiama Lupo Solitario, è un gioco che non ci diceva niente, dalla schermata sembra un gioco di guerra con un cannone, un mirino, insomma sembra un cararmato o qualcosa del genere, comunque vabbè, non sembrava niente interessante, ma il secondo gioco già ci fa andare fuori di testa, perché si chiama Trottola, ma guardando la schermata sembra chiaramente Marble Madness, o è Marble Madness o è un clone, e quindi già mio fratello cominciamo a impazzire, perché diciamo questo è il gioco che sta in sala giochi, questo è Marble Madness, è il gioco da bar, ce l'abbiamo su Commodore 64, e l'hype comincia a salire. Ma poi proseguendo, la cosa che va migliorando o peggiorando se volete, il terzo gioco si chiama Missione Astrale, non si capisce bene dalla descrizione che cavolo il gioco è, ma una cosa si capisce che questi comandi dei robot che si possono trasformare in macchine, e quindi è il gioco dei Transformers, anche guardando la schermata si riconoscono gli autorobot, e quindi diciamo, questo è il gioco dei Transformers, quindi su questa rivista ci sta già Marble Madness e Transformers, quindi già una rivista eccezionale. Il quarto gioco, proprio si finisce col botto, IR Kung Fu, non so perché gli abbiano messo questo nome, ma guardando la schermata si capisce chiaramente che è Kung Fu Master, e quindi il mio fratello eravamo impazziti, perché questa sembrava una cassetta dove c'erano i giochi più belli del mondo, e quindi non vedevamo l'ora di tornare a casa, eravamo consumati dall'attesa di poter tornare a casa e mettere questa cassettina nel nostro fitoregistratore per far girare questi giochi, e quindi l'attesa ci stava divorando, l'entusiasmo era alle stelle. Come succedeva spesso in quei tempi, però, quello che ci ha tradito è stato l'Azimut, la regolazione della testina del registratore Comor64, il mortacci sua, che non ci ha mai permesso di caricare questa cassetta, quindi questa cassetta non siamo mai riusciti a farla girare sul Commodore, e quindi è rimasta in un angolo a casa nostra per tantissimo tempo, perché non riuscivamo a caricare neanche un gioco della rivista. Ogni tanto mi riprendevo la rivista, me la rileggevo e mi struggevo dicendo, ma che cavolo, ma perché non si riesce a farla girare? Io voglio provare questi giochi splendidi. Purtroppo non ci sono mai riuscito, e quindi questo è rimasto, come dire, un rimorso che ho sempre avuto della mia carriera di gamer. E a distanza di più di 30 anni, grazie al sito di Sovox, ho deciso di riprendere questa cassettina e andare a vedere se i giochi che erano contenuti in questa rivista veramente erano belli, veramente erano belli come mi aspettavo, come mi immaginavo, o se mi sono risparmiato una grande delusione. Cominciamo con il primo gioco, che si chiama Lupo Solitario. Adesso vedo se riesco a fare tutti i giochi in un video solo, altrimenti lo spezzerò in più video. Comunque cominciamo con il primo gioco che si chiama appunto Lupo Solitario. Andiamo brevemente a leggere la descrizione. La guerra è imperversa ormai da anni e non si vedono ancora via d'uscita. Il ministro della difesa decide allora di inviare direttamente sul campo a dirigere le operazioni il grande stratega Lupo Solitario. All'inizio del gioco apparirà la mappa della zona dove sta divampando la guerra e qui potrai scegliere la strategia che intendi far seguire al Lupo Solitario. Potrai decidere se impiegare le forze aeree o quelle di terra, con la radio potrai sentire se i nemici sono nelle vicinanze e con lo zoom avrai modo di visualizzare il dispiegamento di forze a tua disposizione nei vari luoghi indicati sulla mappa. Alla comparsa del menu potrai scegliere l'azione di guerra che preferisci affrontare. 5 le possibilità. Difesa, convogli, imboscata, campo minato, attacco ai cingolati e attacco aereo. Allora questo gioco, chiamato su questa rivista Lupo Solitario, in realtà si chiama Desert Fox. È un gioco del 1985. È stato sviluppato da Sydney Development Corporation ed è stato pubblicato da Accolade negli Stati Uniti e US Gold in Europa, se non vado errato. All'epoca ZAP gli aveva dato 87%, mentre invece Computer Gaming World, in una retrospettiva sui giochi di guerra, gli ha dato una stella su 5 dicendo che faceva schifo. Quindi comunque è un gioco che è abbastanza divisivo. Sostanzialmente che cos'è? È un gioco multi-evento in cui ci stanno 5 diverse sezioni arcade da affrontare e c'è anche una piccola componente strategica in cui bisogna spostare sostanzialmente le nostre armate sulla mappa e quando incontriamo durante il nostro tragitto, quando incontriamo dei nemici, affrontiamo una delle differenti sezioni arcade. Allora, per prima cosa vi faccio vedere un attimo quali sono le differenti versioni arcade con la pratica e poi proviamo a fare un giro sulla campagna vera e propria. Allora cominciamo col primo, attacco degli Stuka, che dovrebbe essere più facile. Ecco, noi spostiamo il mirino. Sotto c'è un radar che ci dovrebbe dire da dove arrivano gli aerei e quando arrivano gli dobbiamo sparare, semplicemente. Controlliamo il mirino e gli spariamo. I colpi sono infiniti. Sotto c'è una barra dell'energia, più ci colpiscono più si dovrebbe riempire. Mori? E mori? Ok. Vedete un po' ci ha colpito. E questa è la prima sezione arcade, combattimento contro gli aerei di Aristuka. Quindi in realtà questo gioco è ambientato... E che cacchio? Mori? È ambientato in Nord Africa durante il secondo conflitto mondiale. Noi comandiamo le forze inglesi. Ecco, siamo arrivati a 5.000 punti e quindi abbiamo finito. Il secondo è Tank Duel. È un combattimento fra tank che ricorda vagamente Battlezone. Quindi diciamo, noi comandiamo le forze inglesi e dobbiamo scontrarci contro la volpe del deserto e il maresciallo Rommel, il capo delle forze tedesche. Ok, quindi dovremmo evitare... Ok. Dobbiamo sparare questi cararmati evitando i colpi che ci sparano contro. Il movimento dei cararmati è un po' irrealistico, però insomma, tutto sommato... Che cacchio? Tutto sommato non è malaccio. Questo si è avvicinato un bel po'. Sparamo e mori. Ok. Nella sezione di pratica appunto i cararmati muoiono appena uno li colpisce. Poi, campo minato. Ok, noi dobbiamo andare avanti. Possiamo sparare per distruggere le mine. Comunque sostanzialmente quello che dovremmo fare è far avanzare il nostro cararmato all'interno del campo minato senza toccare le mine con i cingoli. In teoria mi pare di aver capito che se noi passiamo sopra una mina tenendola al centro, quindi senza toccarla con i cingoli, dovremmo non colpirla, a me pare. Ecco questa l'ho presa. Sparando col cannoncino dovremmo poter... Possiamo distruggere le... Possiamo andare indietro? No. Ok. Vediamo se... Sì, funziona. Ok. Se la tengo proprio per cento non la colpisco. Vabbè. 4000 punti ho finito. Atta imboscata. Vediamo com'è. Stiamo dentro il tunnel da morte nera, sembra. Se stanno sti cosi sui lati. Che non so, so cannoni, non so che so, mine che so. Comunque insomma li dobbiamo colpire prima che arrivino in fondo allo schermo, sennò ci fanno un po' di danno. Immagino che questa appunto essendo una sezione d'allenamento sia più facile di... dell'analoga... dell'analoga sezione arcade del gioco vero e proprio. Posto sfondo scuro non si vede un cavolo. Insomma non è che la scelta dei colori sia molto felice. Comunque insomma questa è. Credo che stai dentro un canyon. Non lo so. Sembra tunnel da morte nera. Ok. E l'ultimo attacco al convoglio. Ok. Quindi noi qui ci abbiamo due cannoni. E praticamente tirando a destra a sinistra. Passiamo da controllare un cannone oppure l'altro e dobbiamo sparare i cosi agli aeroplani prima che ci distruggano il convoglio che sta sotto. Però questo è un po' un casino da controllare perché arrivano aeroplani da tutte le parti e passare da un cannone all'altro controllarlo su e giù e sparare è un po' un casino. E sotto si vedono i mezzi del convoglio che vengono bombardati e noi li dovremmo in teoria salvare. Speriamo che non ci distruggono pure questo. Ok. Uno si è salvato mi pare. Ok. E quindi abbiamo finito. Ok. Questa era la pratica. Adesso proviamo a fare un giro sulla campagna vera e propria. Quindi. Ci sono cinque diversi gradi difficoltà. Prendiamo il più facile. Andiamo a vedere. Ok. Allora noi dovremmo essere il cararmatino blu. E lì ci stanno tre accampamenti. Uno vicino Tobruk. Con questa possiamo vedere. Con zoom possiamo vedere cosa ci sta dentro a questi diversi accampamenti. Carburante, carroarmati, cose di questo genere. Non so bene a che serva. Ok. Poi la... Questa opzione in alto serve per richiedere intervento aereo per proteggere uno dei nostri accampamenti che sta per essere conquistato dai nazisti che sono indicati chiaramente con la spastica. Con radio possiamo dirigere il nostro radar e quindi intercettare e ascoltare le conversazioni del nemico. Provendo fuoco si sente statica e poi a un certo punto si sente Rommel. Allora io adesso vorrei provare ad andare per esempio in questo accampamento. Ok. Ho sentito Tiger, Stuga e qualche altra cosa. Quindi vuol dire che se vado qui probabilmente affronto questo tipo di sezione arcade. Una volta che abbiamo impostato la direzione del radar per sentire le informazioni radio, quella è anche la direzione in cui ci muoviamo. Quindi premendo Move noi ci muoviamo. Ok. Siamo arrivati a questo accampamento. E che dobbiamo fa? Dovemmo scontrarci con dei cararmati. Ok. È la sezione quella. Ok. Tank. Quindi è quella più facile. Ok. Perfetto. Ok. Se invece ci scontriamo con la spastica che è proprio l'armata di Rommel facciamo contro un cararmato molto più cazzuto che deve essere distrutto colpendolo più volte. Ok. Chiappa. Probabilmente entrando dentro a quell'accappamento potrò fare rifornimento di carburante e forse anche prendermi un po' dei cararmati. Vedremo. Oh mori. Ecco qua. Usiamo il radar per capire da star nemico. Abbiamo raggiunto i 5000 punti e quindi dovremmo aver finito. Ok. Proviamo a muoverci un altro po'. Però ho lisciato. No. Credo di aver lisciato il campo. Non lo so. Ah ok. Adesso devo fare contro gli Stuga. Contro gli aeroplani. Vedete che c'ho ancora i danni dello scontro precedente. E quindi devo affrontare pure questi. Forse li devo sconfiggere tutti i nemici che sono a guardia dell'accampamento. Eh mori. Ah oh. Affan cucco. Ma va mori. Niente. Non sono riuscito a colpire. Ah oh. Ecco. Ce ne sono due qua dietro. Portiamo prima questo. Se ci riusciamo. Si tiene lontano. Ok. Uh. Passato sopra. Ok. Ok. A differenza dalla pratica probabilmente qui veniamo attaccati da più aeroplani contemporaneamente. Ma hanno rovinato perché vedo che già c'ho metà dei danni. Allora. Spostiamo la direzione in cui ci vogliamo muove. Ok. E andiamo qua. Oh. Però quando arrivo su questo. Su questa. Su. Ok. Ho conquistato questo. E che faccio. Ok. Adesso questo è diventato inglese. Ok. Perfetto. Mi pare che mi ha riparato un po' dei danni. Perfetto. Ok. Quindi è diventato inglese. Quindi se io vado sopra mi dovrebbe dire inglese. Sì. È inglese. E adesso che devo fare a sto punto? Mi sa che devo andare a scontrarmi con Rommel. Boh. Allora. Spostiamoci in questa direzione. E spostiamoci in questa direzione. Adesso proviamo a scontrarci con Rommel. Ok. No. Un'altra cosa. Che succede? Ancora cara armati. Ma ne aveva ammazzati tutti? Ok. Quindi come vedete la sezione strategica insomma è molto semplice. Niente di che. Però secondo me non è un gioco accio. Cioè è un po' difficile capire quello che si deve fare però. Poi le sezioni arcade non sono poi così elaborate. Sono semplici. Però insomma dai. non è proprio male male. Boh. Adesso dai 87% mi pare un'esagerazione. Però senz'altro è un giochino interessante. Uno se riesce a evitare. Ah posso pure colpire i colpi. Ok. Poi se però uno riesce a girare in modo tale da fa scomparire i colpi dallo schermo non li dovrebbe poter evitare. Ne devo ammazzare un'altra perché dovrebbe arrivare a 5000 punti. Ahia. Mi stanno a fai bozzi. Ok. Continuiamo a muoverci in questa direzione. Bene. E proviamo poi a fare che ne so. Boh. O scontro con. Allora proviamo a fare l'intervento aereo. Per esempio. Posso scegliere su quale. No. Oh. Su quale. Oh. Per esempio. Voglio prendere questo di Bardia. Ecco. E gli aeroplani vanno su Bardia. E che fanno? Oh. Non lo so. Proviamo a scontrarci con Rommel. Vediamo che succede. Sicuramente ci farà i bozzi. Ok. Lui si muove anche se io non mi muovo. E insomma ascoltando le conversazioni radio uno più o meno si può fare l'idea di quale quale sezione arcade deve andare ad affrontare. Teoria. Ecco. E poi ci siamo scontrati con la volpe del deserto. Il maresciallo Rommel. che è un combattimento di tank. Però molto più cazzuto. È difficile pure vederlo. Ecco. Già sono quasi morto. E poi bisogna colpirlo più volte per sconfiggerlo. Quindi capirete bene che probabilmente forse aveva evitato lo scontro con Rommel. Comunque. Basta. Boom. Game over. Ok. Sono stato sconfitto e quindi niente. Quindi non lo so qual è la strategia da fare. Prima probabilmente uno deve conquistare Tobruk per fare rifornimento. Poi dovrebbe andare a conquistare quegli altri due quegli altri due avamposti che stanno a nord-est che stanno vicini fra loro evitando di scontrarsi con Rommel lasciargli riconquistare Tobruk conquistare quei due per in qualche modo rifornirsi bene di carburante, mezzi, cararmati e roba del genere e poi andare a scontrarsi al fine con la Volpe del Deserto. Forse è così che si deve fare. Il manuale dice che si vince quando si appunto muore oppure quando si perdono tutti quanti gli accampamenti oppure si vince se si riescono a conquistare tutti e tre. Insomma è un giochino abbastanza semplice però abbastanza fatto bene niente di che insomma gli darei un 6 niente di che. Ok. Dato che sono andato già abbastanza per le lunghe direi che i prossimi giochi li faccio in altri video per il momento quindi è tutto è stato molto divertente ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!